Ciao a tutti raga, qui Tecnico di Holomod Oggi vi porto questa war persa contro un clan cinese Come potete vedere è finita a 90 ad 89 In quanto loro sono riusciti a chiudere tutti i nostri villaggi Mentre noi abbiamo lasciato il loro primo con due stelle Con questa war abbiamo perso la nostra serie di war vinte di fila Che è ormai giunta a 58 guerre E niente, diciamo che è stata una war molto tosta Si può intuire dal fatto che comunque loro hanno chiuso tutti i nostri villaggi E' giusto che sia finita così Noi ci siamo ritrovati un po' stretti con i tempi per l'attacco sul primo E infatti per una serie di complicazioni non siamo riusciti neanche ad utilizzare Due attacchi di TH11 Quelli di Ixa e di Golden Goose Ma diciamo che non abbiamo scuse o altro Diciamo che la war è stata corretta Hanno vinto loro e va bene così Diciamo che della war ci rimangono comunque gli attacchi che abbiamo fatto Sono stati ottimi attacchi sia da parte nostra che da parte loro E in questo video vi portiamo gli attacchi dei nostri TH11 Diciamo che ci rimangono 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti